un sapore unico che riconosce al primo assaggio prodotti saporosa di puglia mozzarella scamorza burrata e ricotta se le vuoi ancora fatte a mano come una volta chiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti saporosa di puglia antichi saperi nuovi sapori saporosa di puglia è un marchio sangue dolce arte casearia dal 1900 www.sanguedolce.com l'alta digeribilità c'è il gusto c'è e il lattosio non c'è prodotti caseari senza lattosio non c'è mozzarella cacciotta scamorza e burrata prova la nuova linea di prodotti non c'è e scopri che gusto c'è non c'è è un marchio sangue dolce azienda certificata dal ministero della salute saporosa più che cosa è la più gustosa papà è vero ma veramente madonna www.sanguedolce.com